Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video ti spiego come risolvere il problema che non si vedono le icone sulla task board quindi in questo caso funziona sia per Windows 10 che per Windows 11 quindi iniziamo prima ad andare sulle gestioni attività ovviamente tieni aperto questa explorer risorse clicchi qua sopra e fai riavvia una volta fatto il riavvio chiudiamo un attimo qua andiamo sul registro editor del registro di sistema quindi scrivi nella barra di ricerca editor del registro di sistema ci clicchi sopra lo apri e segui ogni passaggio dove io clicco la cartella quindi in questo caso vai su computer hkey local machine vai su software poi vai su microsoft vai su windows current version vai su shell update package ci clicchi sopra tasto destro sopra nuovo valore di word 32 bit e lo chiami un docking di save let clicchi sopra dati di valore metti uno fai ok più di qua e provi a riavviare il sistema se questo video ti è stato utilissimo iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao